La vittoria è stata netta della Fiorentina, di tutte e due le partite, la Fiorentina di tutte e due le partite, tanto a Glasgow quanto a Firenze. Grazie! 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 Grazie a tutti per l'Empudio! Sono un po' l'erre. Alla prossima! Alla prossima! Riccacca, il corno è diretto! 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 Buon save per Kosca! Niel Young, il quarto gol per la competizione! Un po' di più, il potere che si tratta le piedi! e no 2-1 e James Singer ha scornato e ha scornato Ascolto ha scornato e to the com x a scornato il è Willie Johnson e qui è Johnston è 3-0 ora per i rangers 1-0 1-2 Zucchini e è il substituto Estrakov e va a continuare e ha un secondo gol per Dinamo 3 minuti Giroji's shot Ragost Oh and it's gone in It's an own goal by Enrico Lanzic Could be in round the back Here Seguin scores From a tight angle Bond Yes Holloway 1-0 Bond just got a touch And it's gone Bond Franklin Bond Vanduil 1-0 2-1 there Vanduil's got it Brookings And it's in It's there Beautiful goal by Robson Trevor Brookings 3-2 4-2 5-3 3-5 Cité-Gro-Font 5-3 4-4 2-3 4-5 5-3 5-3 8-3 10-9 11-9 11-9 11-9 11-9 12-9 13-9 12-6 12-9 molto acrobatiche, va Baumgartner, c'era la 12e minuti del gioco, la del guardien, e noi lo vediamo, il 2e buto per i Belgi, la camera placata dietro la buta, il va passare Obermaier e va Baumgartner, questa volta c'è il delire, nelle tribunali occupi ovviamente per i supporti Belgi, Obermaier, il tirare prima di essere entrato, là basso in la lucarne, non è una buona giornata, non per Obermaier. Sánchez, 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 e gol! Artola se le escapa la pelota, e il gol del empate, señoras e señores, conseguido por Clau Salom, la pelota contrapiede, atención, e a Senti, gol! Atenzione, Atenzione, Hill acaba de marcar il tanto del empate, 41 minuti, Isaac, atención, e reza, gol! Buon passare, Atenzione, Crankel, e gol! Crankel, un remate, e finalmente il numero 11, Siles, marca il tercero tanto. Atenzione, Crankel, un amico! Crankel, un amico! Crankel, un amico! Crankel, un amico! Un amico! Un amico! Un amico! Un amico! Un amico! è in grado di Dore, vado, 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 vado halsinato, vado, 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 vado. Mi ha già 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 preso, è Simonsen, e è 1-1. ...takes it quickly, Keeney...scores! ...by the stand... ...he's just come up late... ...and the goal is there! ...and it's given by Black... ...and that's what it is... ...oh, that's real... ...break, and Hewitt waiting in the middle! Oh, what a great effort by Vignola! Sosa, setting up the shots... ...and in! Bonniak! And a goal for Juventus! Zbigniew, Bonniak! He's got Andy Gray in there! That's the goal! There's the cross coming in... ...and it went all the way! And it's in there! And it's Trevor Steven! And it's the second for Everton! Krenko! Krenko! Now here's Shidi! Well, there's the answer! Take that! And the shot is well saved there by Filiol and then in by Zavarov! Dynamo Kiev have the lead! Krenko looking to combine and it's blocking and it's 2-0! Oleg blocking, popping up on the... Filiol surely will score for three and does! But the score... What is it, guys? From Buster! Happy Zeno! Base goes out from Rohana... Got his cross... Oh! Den Boa! Mechelen in the lead! It's coming from Roberto! It's coming from Roberto! And Salinas, goal! Goal from Barcelona! The center of Lineke! Lineke and Lineke are waiting for him! Lineke and the goal of Lope Recarte! Recarte has just sentencing the final... Incredible! And then the goal! And then the goal! And then the goal of Viali! And then the goal! And then the goal! Goal! The goal of Viali! Goal! 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 Steve Busch! And it's in there! United! Are in the lead! Steve maybe not now... Yes there is! A fantastic goal by Hughes! Spreads it... Pullman with the free kick. And it's in there! 10 milioni Klaus Allo Das Tor Da ist es Das 2 zu 0 Und ich wage zu prophezeien Das ist der Das Tor E' un gol per l'Arsena! la patria di Simon è un paraggio per quê di Sc Nou in Guy «L'Ampriazione di Guadalupe» «L'Ampriazione di Guadalupe» «I amato Brunton!» «Alli per la contazione» Pianti per Zola, Zola per entrato, gol, incredibile, incredibile, credo sia il fatto che Vieri, Vieri, e che gol ha marcado, Vieri si adelantò, Roa le ganò nel Stankovic, buona l'allegata, il ballo per Dani, ha empatato il Mallorca, ha empatato il Mallorca, il gol, Vieri Che gol, no, 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 ha marcado Nedved